Manca da Caraffello da oltre un anno e mezzo Guerrina Piscaglia, la casalinga di cui si sono perse le tracce il primo maggio 2014. Le speranze di ritrovare la donna in vita ormai sono inversamente proporzionali ai giorni trascorsi dalla sua scomparsa. La famiglia continua comunque a chiedere verità sul misterioso destino della mamma di Caraffello e proprio dalla loro volontà nasce l'iniziativa Cerchiamo Guerrina, portata avanti dal legale del marito e del figlio Mirko e Lorenzo Alessandrini. E' stato reso noto alcune settimane fa l'indirizzo email al quale potranno aderire i volontari che vorranno partecipare alle ricerche della donna. Già in molti si sarebbero fatti avanti per poter partecipare alle battute che si concentreranno nelle zone non ispezionate nel corso delle indagini, tra cui anche alcuni cacciatori della zona che quindi conoscono bene quei boschi. Intanto tornerà ad Arezzo venerdì Padre Graziano agli arresti domiciliari nel convento romano dei Premo Stratenzi dal 1 febbraio scorso. Il religioso accusato dell'omicidio di Guerrina Piscaia dell'occultamento e della soppressione del suo cadavere si troverà nuovamente davanti alla corte per il processo a suo carico. Nel corso dell'udienza saranno chiamati a deporre i carabinieri che si occuparono delle perquisizioni nei mesi successivi alla scomparsa della donna. Domani inoltre la difesa del frate congollese potrebbe presentare un esposto contro le sorelle di Guerrina per falsa testimonianza. Le donne nel corso dell'udienza in cui erano state chiamate a deporre avevano infatti riconosciuto un borsello ritrovato in un trolli nella camera di Padre Graziano nella canonica di Caraffello. Lo stesso oggetto in un primo momento non era stato riconosciuto dalle sorelle come appartenente a Guerrina Piscaia.